Fermati e non scappare da questo video. Perché? Io sono Matley e come direbbe la parodi, benvenuti nel mio garage. Perché mi trovo qui? Semplice. Perché qui sotto realizzo moltissimi progetti inerenti al fai da te e quindi che potrai realizzare anche a casa tua. Sai quanti soldi puoi risparmiare se realizzi la mia sedia ergonomica invece di acquistarla? Oppure potresti trovare un'idea salva spazio come questo cesto per il bucato? E poi la cosa più bella è che molti dei miei progetti potrai riceverli a casa tua, come questa lampada. Come? Ti mancano le attrezzature per realizzare questi progetti? Non preoccuparti, pensate anche a questo. Infatti potrai trovare delle recensioni sulle attrezzature che utilizzo io. E se mi segui tramite i miei canali social ti darò news e suggerimenti per quando dovrei andare ad acquistarli. Quindi ti aspetti, iscriviti al mio canale e sono sicuro che non ti rifletirai. Grazie a tutti.